La donna ha sbagliato a inserire la marcia. Turismo ancora sold out in costiera, caos traffico, alberghi pieni a Napoli per il ponte del 25 aprile, ma trasporti e traffico restano le notte dolenti. Da domani targhi alterne in costiera amalfitana e anche Benevento si rilancia grazie ai monumenti e alla storia. Napoli festa a Scudetto, monumenti non si toccano, la gioia della vittoria dello Scudetto non diventi distruzione, i napoletani salvino il loro patrimonio. Così il direttore della regia di Capodimonte, Silvan Belanger, lancia un appello ai tifosi in vista dei festeggiamenti. PNRR e Polo Logistico, l'Irpinia non si arrende, mobilitazione in Valle Ufita per salvare l'infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio. In campo sindaci, sindacati e consiglieri regionali. Il senatore di Fratelli d'Italia Matera, basta polemiche, lavoriamo in sinergia per spendere bene e rapidamente i fondi del PNRR. Salerno Caritas denuncia povertà in forte aumento e emergenza in città e in provincia, grido d'allarme della Caritas che chiede il sostegno delle istituzioni locali. Sempre più persone non arrivano a fine mese e si rivolgono alla nostra struttura. Questi erano i titoli di oggi, domenica 23 aprile. Ben ritrovati con l'informazione di 8 Channel in apertura. La tragedia di Casalnuovo, la piccola Aurora uccisa a 7 anni dall'auto guidata dalla madre. La donna non aveva la patente e stava probabilmente facendo pratica quando ha travolto la sua unica figlia, uccidendola sul colpo. Sentiamo il servizio. Una tragedia nella tragedia. La mamma di Aurora, la bimba di 7 anni morta travolta da un'auto ieri pomeriggio, non aveva la patente e non sapeva guidare. E il terribile retroscena dell'incidente avvenuto a Casalnuovo in provincia di Napoli, dove la bambina ha perso la vita dopo essere stata investita da un Audi A3. Al volante c'era la mamma, Rosa, 33 anni, accanto alla figlioletta e il compagno miracolosamente illeso. L'ipotesi al momento al vaio dei carabinieri è che in quel momento la donna stesse proprio facendo pratica alla guida. Così, invece di inserire la prima, avrebbe ingranato la retromarcia. Una corsa breve, ma l'impatto è stato devastante, al punto che la piccina è morta sul colpo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del nucleo radiomobile di Castello di Cisterna e sono coordinate dalla procura di Nola. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Aurora è rimasta schiacciata tra la parte posteriore della macchina e il palo di ferro. Il compagno della donna in preda alla disperazione ha tentato di fermare la corsa folle della vettura. L'uomo ha preso a manate l'audi, tanto che si possono ancora distinguere i segni della pressione delle sue mani sui portabagagli. Ogni tentativo di fermare la macchina però è fallito. Una corsa molto breve che ha provocato un impatto potente, tanto da straziare il corpicino della bambina esile bellissima, come tutti la descrivevano. Aurora è ispirata quasi subito, l'auto è stata sequestrata. La salma di Aurora ora si trova all'obitorio del Policlinico per l'esame autoptico di Rito. Cora cronaca, ieri in tarda serata i carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti in via a tre ponti presso un distributore di carburanti. Due sconosciuti a bordo di uno scooter, secondo la prima ricostruzione avrebbero esploso un colpo d'arma da fuoco a salve, pretendendo da un dipendente della pompa all'incasso giornaliero. Ottenuti circa 200 euro sarebbero poi fuggiti, non ci sono feriti. La dinamica è ancora da chiarire. Indagini in corso. La Campania si conferma tra le mete più gettonate dai turisti per il ponte del 25 aprile. Alberghi pieni, strade affollate, migliaia di arrivi a Capodichino, ma non mancano i disagi in costiera malfitana per le targhe alterne. Vediamo. Almeno fino a martedì le città della Campania faranno registrare il pienone di turisti. Un boom agevolato dal ponte del 25 aprile, che garantirà numeri da record all'indotto. Gli alberghi sono sold out da giorni, pienone anche a Capodichino, dove in cinque giorni è previsto l'arrivo di 225 mila passeggeri. Folla a lungomare nel centro storico in via Toledo, con problemi di sovraffollamento anche nei pressi del murales di Maradona. Ma il boom di turisti ha provocato disagi anche alla viabilità, nonostante le targhe alterne già in vigore in penisola sorrentina e da domani attive lungo la statale 163 amalfitana. Si sono registrati rallentamenti e disagi nei due territori. Non a caso tanti turisti hanno scelto le vie del mare per raggiungere la costiera amalfitana e le isole. Siamo arrivati ieri sera, perciò ne abbiamo visti ancora poco, però ci piace. Bello. Appositano. Maggiornati del Lux. Qui questo weekend. Hanno sempre parlato bene della costiera, quindi era l'occasione giusta questo ponte per andarla a visitare. Cercheremo di vedere il più possibile, staremo fino al 25 e poi rientreremo, quindi. A Positano. Chi ci piace da morire, noi ci andiamo sempre, poi col traghetto è comodissimo. Bellissima, bellissima. Noi siamo di Torino, però parenti che abitano qua, e allora non siamo mai stati in costiera, ma infatti non vediamo l'ora. Nel Sannio, domenica all'insegna dei siti culturali e alla scoperta dell'enogastronomia del territorio, Benevento conquista i turisti, una città da scoprire in battedesco. Prima la visita presso musei e siti storici di Benevento a seguire, pranzo all'insegna dei prodotti enogastronomici locali, e poi ancora c'è chi proseguire il tour nei comuni della provincia. Così la giornata di festa per i turisti che hanno scelto il Sannio per questo lungo ponte del 25 aprile. Cosa ha visitato? Beh, ho visitato ovviamente Santa Sofia, ho visitato il Palazzo della provincia, ora faccio un altro giro, poi vado all'Arco di Traiano. Abbiamo visitato il Chiostro con la chiesa di Santa Sofia e abbiamo iniziato adesso. Si sta bene qui, dai. Bella Benevento, l'abbiamo trovato interessante. La chiesa di Santa Sofia, adesso andremo all'Arco di Traiano, quindi poi andremo anche in un agriturismo. E dopo andremo anche per concludere la giornata a Montesarchio a vedere quel castello. Come trascorrerete questa giornata? Tra i musei e le bellezze di Benevento. Benevento è una città sicuramente da scoprire, io era tanto che non ci venivo, quindi diciamo tante cose nuove. Non mancano anche oggi i turisti provenienti dall'estero. Canada, Canada, Vancouver. Bellissima. E dal Sagno il presidente Abak rilancia. Siamo alla normalizzazione dei flussi del 2019, ma stiamo dimostrando con questi importanti numeri quanto il turismo sia fondamentale per i territori della Campania. E il Sagno e l'Irpinia sono sicuramente dei protagonisti di questi nuovi flussi turistici. Hanno bisogno però di servizi e soprattutto di mobilità e infrastrutture per raggiungerli in tempo utile. Più gli davo soldi e più ne volevano e mi picchiavano. Una violenza cieca, inspiegabile. Ancora sotto shock l'avvocato penalista casertano Vittorio Giacquinto, rapidato due notti fa nella sua abitazione da quattro banditi che gli hanno rotto uno zigomo, pestandolo per parecchi minuti. Prima di Giacquinto i quattro rapinatori avevano colpito nell'appartamento a Tiguo, occupato da una coppia di anziani, appartamento che si collega tramite il terrazzo esterno con l'abitazione dell'avvocato, ancora non quantificato il bottino. Il sovrintendente del San Carlo Lisner respinge le voci di un suo addio anticipato e presenta un ricco cartellone per la stagione 2023-2024. Cristiano Vella. Nessun addio ma un cartellone ricco e importante al netto dei tagli della regione Campania. Così il sovrintendente del Teatro San Carlo, Stefan Littner, è intervenuto dopo la presentazione della stagione 2023-2024, replicando innanzitutto alle polemiche e alle indiscrezioni degli ultimi giorni circa un suo addio anticipato. È un contratto che per il momento è stato un contratto di cinque anni, che per il momento finisce in aprile 2025. Tutte le altre cose sono le supposizioni. E io approfitto per dire anche una cosa, che io sono abbastanza scioccato di leggere durante gli ultimi giorni alcuni giornali che si permettano di mettere le parole che non ho mai detto. E questo non è normale, perché dobbiamo essere molto attenti e penso che un giornale deve essere molto rispettoso anche del lavoro che fa il sovrintendente di un teatro. Perché? Perché io sono qui per difendere l'istituzione e mettere nella bocca del sovrintendente dei parole che non ha mai detto fa male all'istituzione, non a me soltanto, all'istituzione. E sugli spettacoli che andranno in scena al massimo napoletano ha dichiarato. Una stagione piena di grandi cantanti, grandi registe, grandi direttori d'orchestra dove c'è dei progetti diversi e tante cose. La gioia della vittoria dello scudetto non diventi distruzione. I napoletani salvino il loro patrimonio. Così il direttore della regia di Capodimonte, Sylvain Belanger, alla vigilia della festa del Napoli si appella ai tifosi proprio per evitare che monumenti e patrimonio storico possano essere danneggiati. Sentiamo. Festeggiamo lo scudetto del Napoli senza sporcare i monumenti, deturpare la città, vandalizzare il patrimonio comune. Il direttore della regia Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Belanger, si appella ai tifosi, cittadini, turisti per salvare la città dai vandali. La marcia verso la festa dello scudetto punta dritto al 4 giugno e scendono in campo anche scrittori intellettuali, direttori di musei e luoghi della cultura. Per evitare, spiega il direttore della regia di Capodimonte, che la festa diventi occasione per commettere barbarie, vandalismi, devastazione. Già vedo tutte queste tende che sono dappertutto a Napoli e sappiamo che tra un mese saranno grigi, sarà un'apertura, saranno tutte a terra e sarà sporco, sarà terribile. Quindi, sì, proteggere Napoli, il calcio è una cosa meravigliosa, la gioia è una cosa meravigliosa, ma la gioia non deve essere una distruzione. Quindi non possiamo trasformarsi in barbari perché siamo felici di aver vinto il calcio. Per il direttore, il problema affonda le radici nella cultura stessa di una città poco attenta al suo patrimonio. Sì, Napoli è un patrimonio splendido che purtroppo è danneggiato dall'ignoranza, non dalla cattiveria tanto, dall'ignoranza. Quindi proteggere i palazzi e sculture, quando vedo che nella stessa villa comunale delle sculture che sarebbero in altre città, in musei, in veterine, come Nacherino, per esempio la fontana di Nacherino, che è coperta di graffiti, dove è scritto il nome della fidanzata, del cane e di Nusoposa, sono delle cose che non possiamo accettare. Gli amici Irpini a mobilitazione in Valle Ufita per salvare il polo logistico, struttura strategica per lo sviluppo del territorio, parla il senatore di Fratelli d'Italia Matera. Basta polemiche, lavoriamo in sinergia per spendere bene e velocemente i fondi del PNRR. La Valle Ufita e l'intera Irpinia si mobilitano in difesa della piattaforma logistica, infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio. Il PNRR come opportunità di crescita per le aree interne, ma è una corsa contro il tempo per salvare l'opera. I sindaci e i sindacati si sono mobilitati ieri con un'assemblea pubblica a Grotta Minarda e altre iniziative seguiranno nei prossimi giorni. Per il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera, questo non è il tempo delle polemiche, e bensì di lavorare in sinergia per assicurare un futuro di sviluppo a quel territorio. C'è bisogno di una maggiore sinergia tra la regione campana. Invece di fare polemiche e creare difficoltà, insomma dovrebbe un attimo agire per meglio spendere, spendere più velocemente i fondi di sviluppo e coesione. C'è un tema per quanto riguarda il polo logistico, c'è da valutare anche altre opzioni, la zona ASI di Benevento, però facendo sinergia, evitando di mettere le comunità l'un contro l'altro, sicuramente ci avviamo ad una stagione di crescita per le nostre zone. Ovviamente combattiamo con il tempo e con le scadenze del PNRR, ma su questo il Ministro Fitto, attraverso la teoria dei vasi comunicanti, della maggiore flessibilità delle risorse, sta mirando a salvare tutti i fondi che ha avuto l'Italia e quindi anche le aree interne. Certo, dobbiamo fare ognuno la nostra parte. L'emergenza a povertà da Salerno e provincia, grido d'allarme della Caritas, sempre più persone non arrivano a fine mese e chiedono aiuto alla nostra struttura. Filippo Notari. C'è chi ha perso casa e lavoro, chi non riesce a garantire un pasto alla propria famiglia e chi invece ha difficoltà nel reperire i medicinali. È uno scenario sempre più preoccupante, quello tracciato dalla Caritas di Salerno, che quotidianamente garantisce supporto ed assistenza a centinaia di persone che sono costrette a fare i conti con il dramma della povertà. A parte di quelli senza fissa dimora, ordinari, ci sono anche altri che purtroppo stanno perdendo una loro senza fissa dimora, nel senso di persone che veramente stanno avendo problemi nel recuperare un posto letto. Poi ci sono tanti invece che non riescono a far fronte al pagamento delle utenze, come anche a volte, ahimè, anche a qualche situazione di cibo, nel senso che cibo ordinario si trova, però a volte ci sono delle situazioni anche di bambini o di situazioni in cui c'è bisogno di alimenti più particolari che si fa sempre più prestato, come così anche per i medicinali. Difficoltà a cui la Carita sta provando a dare una risposta, mettendo in campo sempre più servizi di assistenza per i meno fortunati. I servizi sono tanti quelli che si sono messi in campo. Tra l'altro, sempre in collaborazione con l'associazione Don Giovanni Pirone, abbiamo anche riaperto, in certo qual senso, il dormitorio di Piazza San Francesco, proprio perché le esigenze sono tante, o meglio ancora, le richieste di interventi sia da parte dei servizi sociali, sia da parte della comunità e di tanti che bussano a nostre porte, veramente sono tante. Quindi fortunatamente siamo riusciti a riprendere tutto. La sanità del sannio a Benevento si lavora ad un consiglio comunale aperto sulle criticità del settore. De Lucia. Le difficoltà del settore sanitario, in particolare dell'ospedale Sampio, dove ai problemi riscontrati dall'utenza e alle criticità della rete d'emergenza, si sommano alla carenza dei medici. Solo alcuni dei temi che saranno affrontati in un consiglio comunale aperto a Benevento dedicato alla sanità. In programma nelle prossime settimane, come dettaglia, il consigliere comunale delegato Luca De Lipsis. Strutturare strategie per rendere la città di Benevento, l'ospedale di Benevento più appetibile per quanto riguarda le assunzioni, per quanto riguarda i trasferimenti medici. Dopodiché cercare di strutturare con i manager territoriali e ospedalieri dei percorsi più attivi, laddove questi percorsi sono carenti, in modo da proporre un programma che permetta di limitare tali criticità, tra cui l'accesso al pronto soccorso, le visite ambulatoriali e tutto quello che verrà fuori da questa discussione è pre-consigliare. La dichiarazione a margine di un evento di sensibilizzazione sull'endometriosi, una patologia cronica altamente invalidante che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia. Nel Parco Verde Cittadino, taglio del nastro per la panchina gialla con l'associazione di volontariato, la voce di una è la voce di tutti. Siamo stati felicissimi di questa iniziativa alla quale poi vorremmo vincolare un progetto che nascerà nel nostro ospedale e che vedrà nascere un ambulatorio di endometriosi perché nelle nostre zone purtroppo quel problema è importante e riflette un po' i dati nazionali. Allarme sicurezza ad Avelino dopo gli ultimi episodi di violenza e microcriminalità. Il centrodestra punta il dito contro il sindaco Festa. Sta sottovalutando il problema. Vediamo. Rapide in centro e una rissa nel cuore della notte tra quattro persone nella zona del tribunale. Ad Avelino torna a risuonare l'allarme sicurezza. Gli episodi di violenza e microcriminalità si sono susseguiti nelle ultime settimane. Il vice commissario provinciale di Fratelli d'Italia Giovanni D'Ercole invoca più controlli specie nelle ore notturne e nelle strade della Movida. Fratelli d'Italia già oltre due mesi fa abbiamo esposto alla pubblica opinione il nostro allarme rispetto appunto al problema della sicurezza e della criminalità. In ragione di questo abbiamo proposto proprio a Piazza Kennedy la istituzione di un pattugliamento fisso della Polizia Municipale e abbiamo chiesto un pattugliamento fisso di Polizie e Carabinieri presso l'autostazione. Quindi eravamo ben consci di quello che stava succedendo e temiamo adesso che con l'estate le cose possano peggiorare. Quindi questo sottovalutare il problema da parte del sindaco Festa mi sembra un modo sbagliato di affrontare la questione. Una prima risposta dalle forze dell'ordine è arrivata nelle scorse ore. La squadra mobile ha tratto in arresto in flagranza di reato un rumeno di 20 anni con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona colto in flagranza del reato di tentata rapina ai danni di un 17enne nella zona di Piazza Kennedy. Dopo tre anni di stop a causa della pandemia tornano le celebrazioni a Napoli per la Madonna del Faro di Mare Chiaro. Vediamo con Sara Botte. Un'antica tradizione che si rinnova ogni anno nel piccolo borgo di Mare Chiaro a Napoli dove la settimana successiva alla Pasqua si festeggia la Madonnina che dà il nome alla piccola chiesa Santa Maria del Faro. Quest'anno per la prima volta nel pomeriggio di sabato è stata posizionata sugli scogli a protezione di tutti scoperta da padre Trefone che ha celebrato poi una Santa Messa ricordando l'importanza di questa celebrazione. Bisognerebbe non perderla e soprattutto rinnovarla perché i tre anni di Covid non abbiamo fatto niente e allora adesso è come l'inizio di un nuovo cammino e io penso che sarà un cammino fatto con maggiore entusiasmo perché incominciamo a muoversi veramente con l'ena. Una serata che si è conclusa con un concerto che ha ripercorso la tradizione partenopea. La musica è legata alla preghiera chi canta prego due volte per cui dicevo Sant'Agostino e pertanto quale cornice migliore è soprattutto Napoli concerto di canzoni napoletane e mi sembra proprio il luogo perfetto. Accornisce di questo suggestivo evento la bellezza del borgo di Marecchiaro. Marecchiaro non è solo tradizione o canzone o bellezza. Noi ci troviamo in un vero e proprio sito archeologico. Infatti se guardiamo alle nostre spalle vediamo il cosiddetto Palazzo degli Spiriti un edificio romano costruito addirittura cento anni prima che nascesse Cristo. Noi ce l'abbiamo ancora qua. La guerra è un insolito dialogo tra scultura e fotografia taglio del nastro al Man per la mostra Monumento Memento di Ivone De Rosa. Vediamo. Un dialogo inedito tra scultura e fotografia è visitabile fino al prossimo 22 luglio nella prestigiosa sala dedicata ai tirannicidi del Man la mostra Monumento Memento di Ivone De Rosa. La mostra di Ivone De Rosa che interloquisce con le statue della sezione dei tirannicidi del Man è fortemente emblematica perché unisce antico e presente rispetto ad un unico tema tragico che è quello della guerra. Il progetto espositivo è un corpus di 49 opere tratte dalla monografia mia madre edita da Roberto Nicolucci che ha chiesto all'artista di raccontare la chiesa dell'Annunziatella di Napoli. Ho raccontato un po' i pensieri delle persone che negli anni sono passate in quel luogo meraviglioso magari anche prima di partire o tornare subito dopo essere tornati dalla guerra ed è una dedica proprio a queste persone. Nella Camera delle Meraviglie dei Tirannicidi scrive il curatore Simone Maria Azzoni a mia madre è l'intimità nell'eroico la contraddizione nella celebrazione. De Rosa disinnescando il monumento sovverte la linea del tempo sostituisce il senso definitivo con la domanda svela la pace mentre rivela la guerra. La caratteristica principale è quella di mettere in relazione la meraviglia della maestosità con la meraviglia dell'intimità delle vite umane perdute lungo i fronti di battaglia della prima e della seconda guerra mondiale. Ed è tutto per questa edizione di 8 Channel News grazie in regia ad Aldo Felizia buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci. Grazie a tutti i nostri programmi Grazie a tutti i nostri programmi